Una bella serata di festa al campo Laurentini di Pescaiola per la prima edizione del triangolare di calcio in gioco per gioco. La squadra dei giornalisti, quella dei consiglieri comunali e l'Arezzo Calcio Femminile in campo con l'obiettivo di aiutare i volontari di EMPA nel loro lavoro quotidiano. Ogni match è durato 30 minuti ad aprire le danze i giornalisti contro la squadra femminile. Una partita tiratissima dove entrambe le squadre hanno giocato al meglio delle proprie possibilità andando vicino al gol. È stata però la lotteria dei calci di rigore ad assegnare il successo e due punti in classifica alle ragazze Amaranto. Nel secondo match tra giornalisti e consiglieri comunali i primi hanno avuto la meglio per 2-0. Ad aprire le danze dopo 10 minuti di gioco Luca Serafini mentre a chiudere i conti ci ha pensato Luigi Dini su calcio di rigore concesso per un fallo commesso in area ad anni di Andrea Vato. I consiglieri comunali si sono poi rifatti nell'ultima partita contro l'Arezzo Calcio Femminile vincendo per 1-0 grazie alla rete di Modeo. Alla fine quindi sono stati giornalisti ad alzare il trofeo organizzato a fini benefici. Il ricavato infatti sarà devoluto all'EMPA. Dopo la partita tutti a cena per coronare al meglio una bella serata di sport ma soprattutto beneficenza. La prima edizione del triangolare in gioco per sarà trasmessa dalla nostra emittente sul canale 214 del digitale terrestre mercoledì prossimo alle ore 22 giovedì alle 15.45 e venerdì alle 16.40.